punto, ma non che tu li devi dire loro chiamano Isabella e Isabella gli dice chiamate questo numero, se non ti chiamano tu non rispondi tu non gli devi rispondere, se no ti vengono tre ore a te eh no ma infatti io ma vi spiego anche il motivo vi spiego anche il motivo perché comunque è in qualità di rappresentare la pubblica amministrazione ma caggia fa questo tia io voglio che le cose funzionino non possiamo che un ufficio non funziona Marco credo che sei d'accordo con me, l'ufficio deve funzionare sì sì ma va bene ragazzi ma io sono cose che ve lo dico chiaro io ma che a me mi faccio richiamare come gli mando il messaggino, sono disponibili oppure se mi chiamano loro hanno bisogno di noi e poi in qualità di rappresentante di una sigla di sindacale merito rispetto o almeno credo lo sa, allora